e amici telespettatori di Legnano Web TV e di Radio OK Radio Ticino e appassionati dell'OK su ghiaccio svizzero un buonasera da Axel Paderni come vedete siamo tornati qua presso la Raffaizen Biasca Arena per la partita della Swiss OK League tra i Ticino Rockets e il GCK Lions qui vicino a me un un tecnico un amico insomma una persona che ho semplicemente l'onore di avere qui a fianco a me per questa telecronaca ciao Simone e di esserti utile nel commento tecnico ma sì chiaramente Simone è il grande allenatore del del saia Luca Cadempino Lugano di line beh insomma stasera non commenterai l'inline ma commenteremo l'OK su ghiaccio cos'è che si prova ma prima di tutto è una bella sensazione di trovare il gusto dell'OK e del ghiaccio perché mi manca visto che sono anche portiere beh e intanto diamo la lettura delle formazioni eh iniziamo con in maglia rossa i nostri Ticino Rockets con numero uno Cuard Leo numero 31 Costa Giulio numero 96 Fontana Colin il capitano numero quattro Aghi Yannick numero 95 Franzoni Filippo numero 14 Hauser Timo numero 40 Luntz team numero 19 Ritzman Fabia numero 61 Bionda Giona numero 11 Misani Marino numero 73 Kaia Petr il top scorer numero 93 Shab Robin numero 6 Neusch Vander Anthony numero 17 Kaslatter Annes numero 22 Del Ponte Karim numero 58 Guebi Enzo numero 32 Bucli Dominic numero 2 Wiesleckins Jan numero 94 Zanger Sandro numero 52 Vedova Loic numero 91 Krakraus Emilius numero 16 Neuschweider Joel l'allenatore il head coach il signor Landry Eric mentre per in maglia bianca il GCK Lions di Zurigo una delle formazioni più storiche dell'hockey su ghiaccio svizzero andiamo con il numero 36 Mayer Jeffrey numero 1 Ruplet Sasha numero 26 Busser Xeno numero 98 Uber Sasha numero 90 Idmer Samuel numero numero 21 Rautanen Timu numero 16 Belson Tyler numero 88 Bruch Wenging Janik numero 19 Kiket Nelson numero 44 Sean Luff Roman numero 71 Sutter Kai numero 14 Mettler Julian numero 17 Christian Nicola numero 5 Landot Silvian numero 47 Burger Gianluca numero 33 Windmer Gabriel numero 61 Kasut Corsin numero 22 Berri Fabian numero 94 Graf Marlon numero 9 Berri Fabian il head coach il signor Linger Michael beh che partita ci aspettiamo stasera? ma io spero di vedere come sabato una partita veloce su tutte e due i fronti magari i protagonisti i portieri detto da per di parte e niente speriamo che i protagonisti siano i giocatori e non gli arbitri beh c'è da dire che io che per me che ero presente la partita di sabato è stato un puro spettacolo veramente una vittoria per 3 a 2 dei Rockets veramente a cardiopalma io devo essere sincero ho sudato freddo fino all'ultimo che sinceramente nell'ultimo minuto abbiamo visto un doppio power play appunto degli ospiti dell'Agental effettivamente hanno concluso 6 contro 4 i nostri Rockets si sono dovuti chiudere veramente a riccio e hanno veramente fatto una grandissima prestazione che sinceramente beh che dire l'ultimo posto non è meritato poi c'è da dire comunque che ci sono state molte prestazioni direi che insomma che hanno un po' demeritato la sconfitta si poi c'è da ricordare che Ticino Rockets non è come un grasshopper o comunque un langental è una squadra costruita con giovani che vanno e vengono dalla serie A è un trampolino di lancio per la serie A e l'allenatore lavora con tanti giocatori che vanno e vengono quindi l'ultimo posto secondo me è anche relativo si appunto beh c'è da dire che effettivamente per fare un esempio stasera manca il portiere che sabato ha fatto letteralmente i numeri si il Victor Oslund attualmente è con l'Ambripio a Tabien stasera e spero che il suo rimpiazzo il Schuarleo faccia anche lui la sua partita diciamo e chiamiamolo rimpiazzo e intanto torniamo alla telecronaca di questa bellissima partita qui alla Raffaizen Biasca Arena intanto vediamo il controllo con l'affondo da parte dei Lions ancora grande recupero da parte dei Rockets ancora vediamo il disco al top scorer disco al centro ancora vediamo la ripartenza da parte del appunto dello Zurigo che effettivamente sta facendo un po' di difficoltà a superare un po' la metà campo si fanno fatica e la difesa per il momento tiene bene speriamo vada avanti così ancora vediamo disco che carambola ancora Burger ancora vediamo che scarica sulla Balaustra che incredibile bellissimo salvataggio al centro campo ancora la grande ripartenza da parte dei Rockets effettivamente Burger ha un po' fatto una carica un po' ai limiti del regolare ancora disco che torna per il Lions ancora vediamo un bellissimo contropiede e che dire arriva la prima parata di Chouard si è molto attento il momento è molto attento come tutta la difesa veramente sto vedendo un ritmo veramente altissimo per questo inizio partita si sperando che i Rockets tengano duro e segnino per primi anche così per portare ancora più positività assolutamente quello che ci meritiamo per i nostri ragazzi il nostro orgoglio del Ticino ancora vediamo una grande conclusione da parte dei Lions con il numero 22 Barry Fabian che effettivamente ha dimostrato davanti di essere un po' pericoloso si però sempre attenti fino adesso i Rockets ancora vediamo il giro disco ancora vediamo sempre Barry con lunga linea veramente tenta una finta ma il grandissimo Chouard riesce a parare ancora vediamo dal ponte ancora vediamo il centro campo il grandissimo a fondo grande patinata da parte del numero 91 Crackhouse Emilius ancora il controllo da parte dei Rockets vediamo che però non si intendono il disco ritorna in possesso dei Lions però veramente in questo caso stasera sto vedendo all'inizio una difesa super da parte dei Rockets sì io non ho visto l'altra partita ma questa non è la squadra da ultimo posto anzi da almeno metà classifica ma assolutamente ti do ragione ancora disco riguadagnato dai Rockets veramente grande a fondo però vediamo la ribattuta ancora un'altra difesa da parte del numero 14 Hauser Timo beh intanto però non li abbiamo nominati anche i due direttori di gara il signor Ekman Stefan e il signor Castelli Franco e i linemen il signor Verminghil e il signor Duc Sebastien chiaramente tu però mi dicevi che conosci uno degli arbitri sì il primo o il secondo principale come vogliamo pure dirlo Franco Castelli lui è un ex lineman di Serie A che si è riconvertito a arbitro principale prima in MySport League e poi ha avuto la possibilità di salire e beh comunque veramente complimenti c'è anche un pezzo di Ticino qui sulla pista della Rafaisen Biasca Arena intanto vediamo l'ingaggio che viene vinto dai Lions beh che dire ricordiamoci che però nell'ultima partita effettivamente più dell'80% degli ingaggi sono stati vinti dai nostri Ticino Rockets chiaramente che hanno dimostrato più velocità e hanno dimostrato chiaramente anche per in virtù anche della più giovane età della squadra intanto vediamo già in panca cattivi il numero 88 quindi vediamo già i nostri Rockets che sono in questo primo power play che io direi che aia che veramente che erroraccio e purtroppo ha perso il disco può capitare adesso riproviamo intanto vediamo ancora all'affondo Auser ancora vediamo sulla bara Ustra che veramente è pressato il nostro numero 94 Zagher Sandro e vediamo che la difesa dei Lions respinge il disco ancora vediamo il cambio delle linee da parte dei nostri Rockets effettivamente grande ritmo ancora vediamo con la nuova linea l'affondo da parte del nostro numero 93 Shab Robin ancora vediamo che effettivamente in questo momento i Lions si stanno effettivamente chiudendo molto bene sì sono in quattro ma per il momento si stanno chiudendo molto bene spero che i Rockets riescano a come dire a ad affondare il gol diciamo così e in canto vediamo che riparte con il passaggio in diagonale che effettivamente viene deviato fuori dal campo e si procederà a un ingaggio in zona neutra quando mancano 20 secondi al termine di questo power play sì però nell'occhio i 20 secondi sono sufficienti per fare un gol e invece nell'inline? nell'inline anche 10 secondi perché la pista è anche più corta tanto vediamo un nuovo ingaggio che deve essere ripartito i due giocatori sono partiti troppo presto intanto vediamo all'ingaggio il numero 6 Neuschwader Anthony non riesco a vedere il numero del giocatore dei Lions Sutter sì scusate intanto vediamo il disco che viene intanto viene fermato a metà campo e arriva un fischio arbitrale sì un passaggio con la mano chiamato giusto intanto vediamo ancora un nuovo ingaggio in zona neutra ancora tra il numero 71 dei Lions Sutter e il numero 6 Neuschwader Anthony vediamo che è tutto pronto e ingaggio vinto dai nostri Ticino Rockets ancora vediamo l'affondo recupero da parte con respinta da parte di Meyer Jeffrey ancora vediamo il disco che viene respinto e i nostri Rockets che non riescono a sfruttare il power play no purtroppo questo primo power play non è stato sfruttato e adesso sotto pressione hanno liberato e ci sarà un ingaggio offensivo per il Grasshopper appunto ricordiamo GCK Lions formazione della polisportiva Grasshopper di Zurigo una delle formazioni più storiche dell'hockey su ghiaccio tra le più storiche dell'hockey su ghiaccio svizzero beh insomma quest'anno disputano questo campionato di Swiss Hockey League però ricordiamo che in anni passati hanno anche disputato anche la massima serie facendo anche molto bene sì da quel che mi ricordo il Grasshopper è comunque una formazione storica e porta anche il nome della formazione omonima del calcio del calcio e anche della palamano perché chiaramente è una polisportiva con diversi sport e ti dico di più anche della palacanestro perché una volta ci ho pure giocato contro bene e intanto vediamo appunto torniamo alla telecronica della partita ancora vediamo del disco vicino alla balaustra un po' di traffico ancora vediamo veramente l'uno contro uno con il numero 58 dei Ghibi Enzo che però ha la peggio ancora una grande respinta e vediamo che iniziano un pochino a darsi il benvenuto i due giocatori sotto porta che adesso vengono un attimo sostituiti per fortuna e intanto vedremo adesso un nuovo ingaggio in zona difensiva però effettivamente sto vedendo che i Lions stanno iniziando un po' a spingere sì però può essere un'impressione io ho visto tante partite dove una squadra spingeva 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 ma alla fine era l'altra squadra che faceva gol cosa che mi aspetto anche dai Ticino Rocken stasera assolutamente assolutamente intanto cogliamo anche l'occasione di salutare tutti gli amici telespettatori che sono che stanno guardando questa partita che purtroppo non possono per ovvi motivi non possono essere qui presenti alla Raffaizen Biasca Arena speriamo assolutamente di farvi il miglior commento possibile e darvi comunque le emozioni che noi stiamo vivendo qui sul campo ancora vediamo una bellissima pattinata ma in questo caso veramente un muro veramente da parte della difesa dei Rockets però ancora vediamo veramente il nostro top scorer Kaja Petr sul disco ma veramente triplicato ma riesce ad avere meglio la formazione dei Rockets ancora Hauser conclusione veramente fantastica del numero 95 dei Rockets veramente fantastica Franzoni Filippo veramente grande azione grande finta peraltro Sì hanno impostato bene ma bisogna anche dire che il portiere è stato molto attento Sì effettivamente era un tiro che poteva assolutamente sorprendere l'estremo difensore dei Lions ma in questo caso è stato molto attento Sì molto attento e come ho detto prima spero che da una parte spero che i protagonisti siano i portieri E beh invece parlando appunto della tua squadra dei Capolago Flyers Sì noi abbiamo fatto il primo la prima partita del playoff contro Zoffingen squadra rognosa perché stavamo vincendo l'abbiamo persa 5-3 cosa che tra l'altro il nostro allenatore ce l'aveva detto cioè lui l'ha non dico guffata però ha detto è stata calmi giochiamo non fate cazzate scusa la parola e infatti l'abbiamo persa il sabato dopo dovevamo andare con tutta la rivalza possibile e immaginabile a Zoffingen a giocarci a seconda ma purtroppo la pandemia ci ha impedito di farlo E va bene mi dispiace credimi mi dispiace anche a me perché effettivamente mi manca tanto commentare l'inline colgo anche l'occasione per salutare tutti gli amici dell'inline intanto veramente scusate se ho perso la partita grandissima la conclusione di Bruce Well Yannick intanto grande respinta e ancora un'altra conclusione da parte dei Rockets con Vedo Valoi che comunque colgo l'occasione per salutare tutti gli amici dell'inline del Sayaluka dei Paradiso Tigers anche dei appunto dei Lugano Rangers e gli amici anche dei Capolago Flyers che commento sempre con grande felicità e grande entusiasmo bene vediamo ancora il il controllo del disco da parte dei Lions ancora controllo da parte del numero 21 però vediamo ancora una grandissima conclusione incredibile Legno il palo purtroppo ha preso il palo però anche quello fa parte della porta appunto veramente una conclusione con un legno colpito da parte di Vedo Valoi veramente fantastica conclusione da parte dei nostri Rockets che stanno assolutamente salendo in cattedra ancora grandissima veramente la finta utilizzando la balaustra veramente questo è un gesto tecnico veramente fantastico si ha usato la balaustra spaventando la panchina del Grasshopper che sono tutti coperti le mani per rischiare il disco purtroppo ci accompagna dall'altra parte non ha capito l'azione però è stata una grandissima azione veramente questo signori è tecnica pura veramente che spettacolo ancora vediamo un rimpallo l'uno ancora il disco riguadagnato dai Lions con Sutter ancora vediamo effettivamente reclamano un bastone alto ancora e vediamo appunto c'è un fischio dell'arbitro ai 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 mi sa che vedremo il nostro il nostro giocatore il nostro top scorer Kaia Petr in panca cattivi per due minuti si ha fatto diciamo che ha fatto un aggancio che ci stava perché il giocatore stava puntando alla porta c'è il Schuar che l'avrebbe parata però per sicurezza l'aggancio ci sta intanto vediamo un ingaggio ai 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 i nostri Rockets dovranno subire due minuti di inferiorità due minuti di power play per i Lions effettivamente non sarà affatto facile però assolutamente stringerà io sono convinto che stringeranno le unghie e i denti sì sono convinto anch'io che si difenderanno con tutto quello che hanno difenderanno il Schuar che come adesso per esempio ha fatto una grande parata di Gambale appunto secondo me in questo primo tempo per ora c'è da dire che la differenza se devo essere sincero l'hanno fatto i portieri magari un po' più impegnato il portiere dei Lions però anche il portiere dei Rockets secondo me ha fatto molto bene sì dal lato tecnico da portiere posso dire che sembrano facili ma certe parate non sono così evidenti beh io penso una persona che si deve prendere un disco anche a 150 all'ora da chiaramente da una distanza così ravvicinata assolutamente non è affatto facile ancora vediamo il power play da parte dello Zurigo ancora disco controllato dal top scorer Benson Tyler ancora disco al centro vediamo grandissima la difesa di Del Ponte Karim ancora vediamo il giro il giro da parte il controllo da parte dei Lions ancora con il top scorer ancora vediamo Bussler ancora disco al centro veramente per Suter che non riesce a colpirla sul secondo palo ancora vediamo un po' uno slap shot da parte di Suter ancora controllo da parte del disco dei Lions vediamo effettivamente che alzano un po' addirittura il raddoppio i nostri Ticino Rockets si si stanno difendendo molto bene e mancano 25 secondi devono tenere duro assolutamente però quello che posso dire ancora fino ad ora veramente una partita tutto sommato io direi corretta però fino ad ora si direi che è molto corretta dalle due parti e niente a parte due penalità ma che ci stanno andiamo avanti così bene bene intanto vediamo l'affondo da parte dei Lions grandissimo il passaggio al numero 47 dei Lions che viene Burger Gianluca che viene doppiamente chiuso con un doppio tiro ancora rientra rientra i Rockets che effettivamente non hanno diciamo che non hanno risentito di questa inferiorità numerica no si sono difesi molto compatti e il boxplay ha funzionato ingregiamente ancora un'altra conclusione pericolosa da parte dei Lions effettivamente in questo momento sto vedendo un po' più di sopravamazia dei Lions effettivamente coach Landry dovrà stare un attimo attento effettivamente perché non sarà assolutamente facile dobbiamo cercare di riguadagnare terreno un po' come sono stati i primi io direi 14 minuti di gara che io direi che sono stati assolutamente buoni ancora vediamo il controllo del disco da parte del numero 4 Aghi Gianic ancora vediamo il possesso il contropiede non ben riuscito da parte dei Rockets ancora vediamo controllo del disco da parte del Lions ancora l'affondo con il numero 90 Wider Samwell Lucas che però vediamo che non porta alcunché ancora vediamo l'affondo veramente controlla il disco col patino però ancora nulla di che 3 minuti e 20 secondi al termine di questo primo tempo alla Raffaizen Biasca Arena che dire il punteggio è ancora di 0 a 0 ma c'è ancora tanto ok da giocare e io direi che lo spettacolo non sta assolutamente mancando no anzi molto molto bella come partita perché si passa da un fronte all'altro ancora vediamo dal ponte veramente Karim che per me è stato assolutamente uno dei giocatori più determinati della vittoria di sabato scorso qui alla Biasca Arena contro Lagenthal ancora Karim del ponte che controlla il disco vediamo appunto il controllo passaggio in diagonale per il numero 94 Zagher Sandro ancora un'altra conclusione però parata da parte dell'estremo difensore uno slap shot però viene coperto ancora a controllo da parte dei Rockets che direi che sono tornati assolutamente in possesso sì anche perché sulla linea blu il giocatore dei Rockets ha rischiato ma è stato bravo a non farsi fregare il disco e a rimetterlo per la sua squadra ancora vediamo il controllo del disco vediamo che però viene respinto ancora vediamo il cambio delle linee da parte dei Rockets veramente veloce ancora un affondo da parte del numero 9 Bernie che però viene raddoppiato veramente ci mette la stecca il nostro numero 40 Lutz team infatti effettivamente incredibile ha spaccato la stecca sì può succedere quando cerca di fare un tiro ti tirano sul bastone se becchi il posto sbagliato si rompe in due è veramente questo che dire è la dimostrazione che nonostante per ora lo 0 a 0 questa partita è veramente tosta signori ancora vediamo Aghi recupera il disco ma veramente ci arriva l'avversario Cristian Nicola ancora vediamo un po' di traffico vicino alla bala Ustra uno con due contro due veramente è un in questo momento c'è un attimo di fase concitata veramente sono fermi c'è anche il bastone spaccato di mezzo vediamo che ha la meglio il giocatore dei Lions che però respinge e il disco torna indietro all'estremo difensore Meyer Jeremy ancora Jeffrey scusate vediamo che tanto è scoccato l'ultimo giro dell'orologio grande la parata da parte di Chouard Leo vediamo che mancano ancora 28 secondi al termine di questo primo tempo si ha fatto una gran parata e a 28 secondi non è evidente perché poteva essere un gol eh sì effettivamente io direi che però l'estremo difensore non sta facendo rimpiangere il suo collega no assolutamente no anzi sta sta facendo una gran partita come dicevo all'inizio e spero per lui che continui così 28 secondi al termine di questo primo tempo qui alla Raffaizen a Biasca Arena appunto di Biasca in canto Ticino Svizzera punteggio è di Ticino Rockets GCK Lions di Zurigo 0 ma c'è ancora veramente tanto intanto vediamo appunto l'ultimo affondo da parte dei Ticino Rockets appunto vediamo che se c'è la possibilità di un ultimo tiro e vediamo che arriva l'agevole parata di Chouard e termina questo primo tempo col punteggio di Ticino Rockets 0 GCK Lions Zurigo 0 linea alla regia ben ritrovati amici telespettatori di Legnano Web TV per il secondo tempo tra i nostri Ticino Rockets GCK Lions di Zurigo il punteggio una partita assolutamente che si è chiusa con un primo tempo a reti del tutto inviolate beh Simone come hai visto questo primo tempo? Allora il primo tempo come avevo accennato all'inizio ha visto protagonisti i portieri però anche gli attacchi sono stati molto veloci a entrare nelle rispettive zone così come i rispettivi difensori hanno difeso molto bene e spero che vada avanti così per tutta la partita assolutamente grazie per la tua disamina assolutamente io direi che un secondo tempo che insomma farà vedere il vero valore ci auguriamo che faccia vedere il vero valore dei nostri Rockets intanto vediamo un'altra bellissima parata dell'estremo difensore che direi che insomma sta iniziando ad essere abbastanza impegnato il nostro Chouard Leo si trovo anche una cosa buona perché se non sei impegnato diventi freddo se diventi freddo e tirano non sei pronto intanto vediamo un nuovo ingaggio tra il numero 77 dei Lions e vediamo appunto ingaggio vinto dai Lions oggi rispetto a sabato effettivamente percentualmente più ingaggi vinti dai Lions sì però è una cosa che dice poco perché se vinci l'ingaggio poi perdi il disco non va bene non va bene assolutamente intanto complimenti per la bellissima conclusione di Aghi Yannick ancora vediamo l'affondo Suter ma Yannick Aghi veramente riesce a fare e viene sbattuto sulla balaustra da parte del nostro numero 5 e intanto vediamo ancora un rimpallo e disco che torna in possesso dei Lions ancora vediamo un altro a fondo da parte del numero 90 Winder Samuel con disco che carambola e vediamo che riesce a ritornare in possesso sempre dei Lions che effettivamente in questo secondo tempo mi sembrano un pochino tornati sul campo un filo più motivati però a volte non vuol dire niente si primo minuto e mezzo più o meno come il primo tempo spero che si sblocchi la situazione chiaramente la parte dei Ticino Rockets ce lo auguriamo tutti i nostri Ticino Rockets il nostro orgoglio dei nostri ragazzi ticinesi ancora vediamo ingaggio vinto dai Rockets e il bellissimo slap shot da parte di Crackhouse da Bionda Giona ancora vediamo il gioco con il disco con la ribattuta intanto ancora il nostro estremo difensore Chouard Leo che viene impegnato ancora vediamo il grandissimo contropiede dei nostri Rockets ancora il disco che effettivamente non riesce a essere a trafiggere la porta dell'estremo difensore Meyer Jeffrey ancora vediamo un po' di rimpallo e il disco ritorna in possesso dei Lions si è una buona azione sempre il portiere è stato molto attento c'è anche da dire che è un mancino ed è differente da un destro per un portiere e così per anche l'attaccante ancora vediamo la bellissima parata dalla parte dell'estremo difensore vediamo il top scorer veramente che viene fermato e vediamo anche un po' che i giocatori stanno iniziando a conoscersi un po' più intimamente si girano qualche bottarella che ci sta perché questo è ok secondo me arriva il gol ci auguriamo assolutamente però insomma diciamo che per te che sei hai più o meno la mia età effettivamente se ben ricordi un po' l'ok degli inizi degli anni 90 effettivamente un po' più di botte si vedevano sì erano molte più botte e ci voleva forse una scintilla meno di quel che è successo adesso per scatenarla assolutamente però che dire almeno io personalmente a me piace personalmente di più questo ok che è molto più veloce molto più tecnico e anche io direi anche un po' più tattico effettivamente rispetto all'ok dei fini anni 80 inizi anni 90 di quando ho iniziato a seguirlo tanto vediamo un nuovo ingaggio in zona difensiva per i Lions ancora una conclusione controllo da parte del numero 52 vedova Loic ancora vediamo un affondo ancora da parte dei Rockets che però perdono il disco e ancora vediamo l'affondo da parte del numero 19 Chiquette Nelson che perde il disco ancora vediamo il giro disco da parte vedova uno slap shot da parte del numero 58 Gubei Enzo e la parata effettivamente le conclusioni adesso iniziano a diventare chiaramente più numerose da parte dei Rockets sì i Rockets stanno tirando molto di più e speriamo arrivi il gol assolutamente ce lo vogliamo intanto vediamo sempre un altro ingaggio in zona difensiva per i nostri Rockets con il numero 6 Neuschwander Anthony ancora vediamo disco spazzato al numero 91 Crackhouse Emilius ancora vediamo perde il disco ricontrollato dal numero 44 del Schwandauf Roman ancora vediamo i Rockets conclusione da parte del numero 19 Ritzman Fabian effettivamente in questo ultimi due minuti io direi che i nostri Rockets stanno assolutamente pressando i Lions che vedo che fanno difficoltà a uscire dal pressing si mi sembra che stanno pressando molto e il Grasop comincia a essere un po' in apnea si difende bene ma è in apnea speriamo che arrivi il gol assolutamente quello che ci vorrebbe intanto vediamo un ingaggio con il numero 17 numero 71 Sutter vinto ancora dai Rockets ancora vediamo il controllo ancora una respinta da parte del numero 96 il portiere 36 Meyer Jeffrey che effettivamente inizia un po' a fare un po' gli straordinari ancora disco riguadagnato grandissima la difesa da parte del numero 17 Kassler Annes diamo un rimpallo veramente riesce a controllare bene il disco veramente utilizzando la balaustra e questi si sono i fondamentali dell'ok su ghiaccio si giochiamo semplice ce la passiamo andiamo in attacco molto semplice ancora vediamo il effettivamente alzano un po' la linea di pressing i Lions ancora veramente un altro conclusione da parte dei Lions ancora riesce a riguadagnare il disco e vediamo il numero 98 dei Lions Uber Sasha vediamo un braccio alzato vediamo se c'è una penalità sì purtroppo il portiere ha fatto un aggancio che ci sta perché aveva il giocatore andato sul disco e non ha mollato il bastone ci sta meglio che un aggancio che un gol in questo caso no non ci sono non ci sono uomini in panca cattivi Simone sì perché la regola dice che il portiere a meno che una penitata di partita non non va in panchino ma va un giocatore che in questo caso il 17 sostituirlo per due minuti bene grazie grazie per questa delucidazione perché insomma diciamo che non ho tanti soveguo da tanti anni questo sport e qualcosina a volte insomma magari un po' me lo dimentico non nascondo che a volte faccio anche un po' di confusione con il regolamento dell'inline però se la vi insomma e intanto appunto vediamo in panca cattivi il nostro numero 17 dei Rockets Kaslatter Hannes appunto due minuti di power play per lo Zurigo che intanto vediamo la grande respinta da parte di vedova Loic ancora vediamo che il tempo passa controllo del disco utilizza bene la balaustra per ancora uno scambio con il numero 44 Schlagauf Roman il capitano ancora grande la difesa da parte dei Rockets andiamo appunto ritmo altissimo cambio già della linea ancora diamo la buona chiusura ancora della difesa dei Rockets che direi che non stanno soffrendo questo power play fino ad ora no finora stanno liberando quindi facendo il gioco molto semplice prendo il disco e butto via ancora vediamo la fondo del top scorer ancora vediamo veramente grande la difesa del nostro numero 61 Bionda John veramente complimenti intanto effettivamente già sostituito perché già ha fatto veramente un grande dispendio energetico veramente un'altra respinta da parte dei Rockets veramente bellissima la difesa di Bucli Dominic ancora vediamo al fondo è da parte dei Lions ancora una respinta da parte della difesa dei Rockets veramente insomma stanno tenendo proprio bene questo power play sì non sembrerebbe neanche che sono i 4 Ticino Rockets contro 5 del Grasshopper stanno premendo di più i Ticino in 4 che non il Grasshopper in 5 hai ragione sto vedendo veramente c'è da dire però che sta cambiando continuamente anche le linee quindi sta dando in campo il coach Landry un ritmo di gioco veramente incredibile ancora vediamo controllo del disco ancora da parte dei Lions disco al centro non viene agganciato dal numero 9 Bernie Fabian ancora vediamo che i Lions tornano in parità numerica e intanto veramente ottima la parata da parte di Chouard Leo sì una bella parata sempre attento sta tenendo risultato in questo momento così come il suo collega Meyer 12 minuti e 39 secondi al termine del secondo tempo qui alla Raffaizen Biasca Arena punteggio veramente a reti inviolate io se devo essere sincero non mi sarei aspettato sino ad ora di arrivare senza reti inviolate sì anch'io come dicevamo prima la classifica era bugiarda perché il Grasshopper era metà classifica il Ticino è ultimo quindi sembrava che dovesse essere una vittoria facile per il Grasshopper ma come si dice ogni partita comincia da 0-0 intanto vediamo la fondo del nostro top scorer vediamo veramente la gran parata dell'estremo difensore del Grasshopper ma vediamo che appunto il ancora il disco viene riguadagnato aia dal numero 61 che e qui c'è da dire grande difesa dei Rockets che in questo caso veramente stanno facendo veramente una gran prestazione difensiva ancora il disco riguadagnato veramente con la punta e con gli artigli dal nostro top scorer Kaya Petr si si stanno difendendo molto bene anzi stanno cambiando Landry cambiando spesso le linee sta alzando il ritmo e sembra che il Grasshopper comincia a non capirci più niente e beh a questo punto veramente ci auguriamo in un cambio in una rete comunque veramente a me piace un sacco questa strategia da parte di coach Eric Landry veramente è un cambio continuo delle linee chiaramente delle linee che solo entrano in campo intanto veramente utilizzo la bala Ustra il nostro numero 6 dei Rockets Neuschmader Anthony veramente ancora vediamo un po' di traffico alla meglio sempre lui ancora si posiziona sulla linea e cavolo veramente ancora un altro rimpallo vediamo un altro rimpallo ancora da parte del numero 91 Crackhouse Emilius veramente questo disco deve assolutamente entrare sì adesso deve entrare perché il Ticino sta costruendo molti azioni e deve arrivare anche il gol alla fine ora vediamo un altro affondo è veramente che gran difesa da parte di Crackhouse Emilius ancora un altro affondo da parte del numero 93 no peccato veramente Shrub Robin ha fatto un affondo spettacolare veramente il ritmo di questa partita è assolutamente elevatissimo sì come detto prima non è una partita contro l'ultima della classe anzi sembra il livello sembra molto alto e lo stanno dimostrando probabilmente anche per il fatto di aver preso fiducia sabato vincendo con Langenthal appunto infatti beh che dire Langenthal che attualmente è secondo in classifica e direi che insomma assolutamente poi i nostri ragazzi non meritano questo ultimo posto e anzi assolutamente noi vogliamo speriamo che questa sera possa essere una vittoria perché meritano assolutamente i punti per tornare in alto in classifica intanto veramente control non riescono ad agganciare bene il disco vedo il braccio dell'arbitro alzato Simone sì il giocatore del Ticino Rockets era entrato prima del disco in questo caso era un upside differito l'arbitro alza la mano imponendo a tutti i giocatori del Ticino Rockets di uscire e poi di rientrare ancora ancora vediamo un altro disco ricontrollato dai Rockets però vediamo che insomma i Lions sono assolutamente schiacciati veramente grande recupero da parte del numero 17 Caslatter Hannes ancora vediamo un altro controllo da parte dei dei Rockets Aggie sul disco veramente ancora veramente bellissima questa fino ad ora questo gioco dei Rockets veramente meritiamo assolutamente la rete ancora vediamo che però non aggancia e si dovrà ripartire un attimo dalla fase difensiva ma in questo caso scusate veramente che tecnica assolutamente fantastica ancora Hasler veramente che azione pericolosissima sì una bella azione purtroppo ha certo un backhand che il portiere da quel lato lì la prende forse doveva aggirare la porta in velocità per provare a sorprendere un magnifico Maier perché non c'è niente da dire sia lui che Schwarz stasera stanno facendo la loro partita e anche per quello che la partita è in bilico ancora vediamo un altro a fondo da parte di Landot Silvan vediamo dietro alla gabbia appunto del nostro Schwarz ancora vediamo il disco che rimpalla 7 minuti e 45 secondi al termine del secondo tempo veramente è volata via sì come hai detto prima stanno alzando il ritmo il TG Rockets manca solo il gol speriamo che non lo subiscono perché tante volte attacchi 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 e poi subisci tu il gol sperando che non sia il caso sperando e no sinceramente intanto vediamo un altro a fondo il controllo ecco il cavolo no che cosa ha sbagliato veramente è tentato di controllare col patino il disco il nostro 95 Franzoni Filippo intanto vediamo insomma intanto va a sbattere sulle balaustre il nostro numero 19 Ritzman Fabian ancora controllo del disco da parte del numero 2 Wenzischi Jan vediamo che tenta ancora di utilizzare la balaustra ma non riesce a rifare veramente il grande gioco vediamo Barry sul disco ancora vediamo l'altro a fondo da parte dei Rockets che peccato veramente una partita che è assolutamente fantastica slap shot da parte del numero 2 Wenzischi Jan ma veramente cioè io devo essere sincero mi sto divertendo più ora a vedere 1-0-0 che in certe partite con tante reti che però insomma dimostrano un gioco veramente insomma passami il termine non proprio buono sì qui abbiamo un'azione che poteva essere un gol purtroppo un centimetro ti nega il gol però come ho detto prima sta arrivando il gol sta arrivando ce lo auguriamo veramente non vediamo l'ora di una rete da parte dei nostri Rockets vediamo Fontana che riguadagna il disco ancora scarica al numero 25 ancora un altro a fondo e recupera il numero 90 dei Lions Vider Samuel ancora disco al top scorer Benson Tyler ancora vediamo veramente che dire non a caso il top scorer perché sinceramente ha una tecnica di pattinata il giocatore del numero 16 dei Lions che è veramente incredibile intanto vediamo un po' che stanno facendo anche a lato un po' di conoscenza abbastanza intima i due giocatori si succede un difensore difende fino in fondo la sua porta così come si dice che il portiere non si tocca in questo caso le Asi Colin Fontana voleva far sapere che loro giocano per vincere e gliel'ha fatto chiaramente capire anche se il top score appunto veramente una grande carattere intanto no scusate arriva la rete scusate se solo un po' di parte arriva la rete di Mettler Julian veramente totalmente sbilanciata la difesa dei nostri Rockets che peccato e che dire veramente complimenti e bisogna essere obiettivi complimenti ai Lions che appena hanno avuto la prima minima occasione sono stati cinici e hanno assolutamente approfittato sbilanciando completamente la difesa dei nostri Rockets si in questo caso Schwartz non poteva niente come hai detto tu una piccola distazione costata carissimo ed è costata il gol però bisogna andare avanti e subito il gol subito riprendersi e subito andare a fare il pari ancora vediamo una conclusione veramente pericolosa ancora dei Lions ancora vediamo un altro a fondo sempre della formazione in maglia bianca e arriva un fischio arbitrale sì una liberazione ingaggio nella parte difensiva del grasshopper perché hanno liberato liberazione vietata esatto cosa che è un segnale di comunque sono sotto pressione anche se hanno fatto il gol sono comunque sotto pressione ancora vediamo un ingaggio in zona difensiva non riesco a vedere il giocatore dei Lions ma vedo tranquillamente il grandissimo conclusione da parte dei Rockets veramente ancora vediamo un po' di traffico vicino alla balaustra ancora controlla il disco e ribatte ancora un'altra ribattuta effettivamente sto notando che le squadre stanno iniziando a dimostrare un po' il fisico sì Ticino deve riprendere il gol che ha subito e il grasshopper ecco interrompo il commento per dire che c'è un rigore a nostro favore tra virgolette a nostro favore a favore del Biasca giustamente fischiato e speriamo che segni assolutamente appunto un un'occasione assolutamente ghiotta a questo punto per i nostri Rockets quando mancano quattro minuti e un secondo al termine di questo secondo tempo vedremo appunto opposti il numero 36 Meyer Jeffrey e il numero 52 dei vedova Loic vediamo che parte appunto uno contro uno no peccato sì peccato però purtroppo era già partito malissimo il vedova in questo caso il portiere è rimasto fermo e ha parato sì appunto secondo me non ha fatto neanche tutta questa grandissima difficoltà effettivamente non so io fossi stato in lui magari avrei chiaramente vabbè partenza questo non posso dirlo però magari avrei fatto magari una finta in più sì io sarei arrivato giù più in velocità facendo una qualche finta in più per portarlo da un lato o dall'altro e poi tentare di alzare il disco all'ultimo vabbè se la vi andiamo ancora vediamo un altro a fondo e in questo caso effettivamente viene reclamata un po' una carica irregolare appunto ai Rock però niente niente da fare ancora dal ponte veramente pressato vediamo l'arbitro col braccio alzato ci sarà una penalità sì una penalità contro il Grasshopper che appena finisce appena fischia sapremo di cosa penso sia un aggancio sì l'ho visto anch'io mi sembra un aggancio ma poi chiaramente staremo assolutamente a vedere cosa fischierà il nostro arbitro ticinese Castelli Franco appena terminerà l'azione ancora vediamo disco controllato dal nostro top scorer ancora vediamo che tenta di farsi strada il nostro numero 52 e vedremo vedo Valoi che vedremo appunto la penalità per Zurigo per i Lions fischiata al numero 94 Graf Marlon che termina in panca cattivi per due minuti a questo punto Simone direi un power play che dobbiamo assolutamente sfruttare sì mancano meno di tre minuti abbiamo un 5 contro 4 siamo sotto di 1 e dobbiamo assolutamente sfruttare l'occasione ancora nuovo ingaggio vinto dai dai Rockets però vediamo ancora un 2 contro 1 veramente a cui dobbiamo assolutamente crack house sul disco ancora vediamo che riparte da dietro la gabbia di Chouard Leo ancora vediamo la ripartenza da parte dei Rockets con Zagger ancora che scarica per il top scorer ancora vediamo 1 2 vediamo il Norrie Fontana non aggancia il disco mamma mia si può capitare non dico cosa avrei detto ma puoi immaginare però capita ripartiamo e vediamo cosa succede guarda io mi immagino chiaramente un altro sport ma mi immagino il coach Bernasconi del Sai Luca cosa avrebbe detto si anch'io immagino che non si possa neanche dire alla tele veramente un grande saluto a coach Bobo Bernasconi del Sai Luca Cadempino Lugano veramente storico coach dell'inline veramente gli facciamo un grande abbraccio da lontano e intanto vediamo ancora il possesso del disco da parte dei Rockets non aggancia bene il disco però riesce a controllare il possesso ancora vediamo il diamo un attimo che si dispone ancora vediamo che Aya del ponte non riesce a controllare bene il disco Aya sto vedendo che non stiamo riuscendo a sfruttare bene questo power play vediamolo a fondo è qui che dire veramente se non complimenti a Meyer perché ha fatto una parata spettacolare si ha fatto una bella parata di gambale forse il giocatore di Rockets avrebbe dovuto alzare leggermente il disco per poterlo impenserire ancora vediamo che siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo tempo della gara tra i nostri Ticino Rockets e il GCK Lions di Zurigo punteggio ahimè però meritatamente di 1-0 a favore di Zurigo intanto vediamo ancora un affondo non gli riesce lo slap shot al numero 47 Burger Gianluca ancora Burger che riesce però a chiaramente a rifarsi con una conclusione ancora vediamo un'altra a fondo da parte dei Rockets non aggancia mamma mia il numero 94 Zagger Alessandro ancora 5 secondi 4 mi sa che non c'è più tempo per niente si va in pausa e chiude il secondo tempo col punteggio di Zurigo 1 Ticino Rockets 0 linea ben ritrovati amici telespettatori di Legnano Web TV e di Hockey Radio Ticino per il terzo tempo della partita tra i nostri Ticino Rockets e il GCK Lions ricordiamo partita della Swiss Hockey League qui dalla Raffaisen Biasca Arena un bentornato da Axel Paderni e da Simone Rosselli Simone come hai visto questo secondo tempo? come dicevo all'inizio stava arrivando il gol purtroppo è arrivato dalla parte sbagliata però sono convinto che adesso è il terzo tempo con anche un due minuti contro lo Zurigo il Ticino riuscirà a pareggiarla intanto già vediamo una cosa positiva per i nostri Rockets un due minuti di penalità per il numero 27 del GCK Busser Xeno beh che dire sinceramente io direi che dobbiamo cercare di approfittare di questo power play sì assolutamente cercando di fare un gioco semplice ma ammirare al gol ancora vediamo il disco che ritorna in posse ahia che errore veramente non ci vuole veramente che brutto retropassaggio veramente intanto vediamo un fissio arbitrale sì un colpo di bastone sul giocatore dei Rockets ma la cosa grave è stata l'uscita del portiere che non ha visto il giocatore dell'Ios arrivare alle spalle e poteva costare il secondo gol veramente che erroraccio intanto vediamo che ahia c'è un'altra penalità per i Rockets con il numero 91 sì Craccaus Emilius Craccaus Emilius veramente non ci voleva questo erroraccio le squadre tornano in parità non so i nostri Rockets li vedo un po' disattenti in questo ritorno in campo sì anch'io vedo anche adesso c'è un'altra un'altra come si dice un'altra peta di come non suzione contro i Lions quindi giochiamo giocheranno 4 contro 3 per i Rockets e questa è ancora ancora di più un'occasione per fare il pari appunto abbiamo vediamo che in panca cattivi va anche il numero 5 Landolf Silvan beh a questo punto veramente io mi chiedo cosa cosa aspettano i Rockets ad approfittarne di questo di questo doppio power play vediamo in che si procederà adesso a un nuovo ingaggio in zona difensiva per dei Lions con il numero 44 Schlagauf Roman e il top scorer Kaya Petr diamo l'ingaggio vinto dai Lions ancora un affondo da parte del numero 14 Mettler Julian ancora disco che rimpalla e torna in possesso dei Rockets ancora disco al top scorer Zanger ancora Petr Zanger vediamo l'1-2 ancora con i giocatori vediamo che a questo punto veramente che tiraccio che viene parato dall'estremo difensore Meyer Jeffrey ancora un po' di traffico vicino alla balaustra veramente Zegler sul disco ancora l'affondo con Kaya non aggancia il disco vedova ancora Kaya dietro alla gabbia di Meyer diciamo che conclusione e il disco termina fuori sì da dire che stanno attaccando molto bene i Rockets ma Meyer sta parando molto attento sta parando tutto guarda adesso non so se sarà guardando questa partita però effettivamente Meyer sta facendo una gran prestazione un po' come è un grande portiere dell'inline che almeno io personalmente apprezzo il portiere dei Paradiso Tigers Livio Rimoldi detto Saracinesca sì ricorda molto Livio molto molto atletico sulle gambe che tante volte si salva la partita scusa speriamo non sia così per il grassopera e che il Ticino riesca a girarla ancora Fontana un lancio lungo che però riesce a trovare ancora il compagno di squadra vediamo un po' di traffico e riguadagnano i Lions il disco effettivamente i Rockets che non stanno assolutamente sfruttando questo power play e vediamo che adesso Zurigo ritorna in parità numerica sì no scusate 11 secondi mancano sì 11 secondi da dire che Schwartz ha fatto una bella parata dando sicurezza alla sua retroguardia sì effettivamente io non so cosa sia successo perché comunque tutto sommato nel secondo tempo i Rockets hanno dimostrato in campo un buono ok una grande patina una grande velocità di patinaggio però non lo so che cosa in questo secondo tempo mi sembra che manchi qualcosa in più sì da portiere posso dirti che giochi 59 minuti un partitone e nell'ultimo minuto fai quell'errore che ti costa la partita purtroppo come si dice l'attaccante sbaglia c'è il difensore il difensore sbaglia c'è il portiere ma se il portiere sbaglia è gol in questo caso prima Schwartz è stato anche molto sfortunato e il Grasshopper è stato bravo a finalizzare quell'unica occasione concreta di fare gol che dire per ora c'è da fare i complimenti al Grasshopper comunque diciamo che l'unica occasione veramente utile che hanno avuto sono stati molto cinici e l'hanno sfruttata che dire l'hokey è anche fatto di è uno sport di situazioni e giustamente a volte magari la situazione non ti gira a dovere però vabbè manca ancora 16 minuti e 50 secondi al termine di questa partita di questo terzo tempo qui alla Rafaisen Biasca Arena chiaramente c'è ancora tanto hockey da giocare e c'è ancora tanto tempo assolutamente per i nostri Rockets di pareggiare e magari portarla a casa e le ultime parole famose sì purtroppo quel che personalmente capita anche a me tante volte sei 1 a 0 per gli altri cerchi di ripartire e prendi il 2 a 0 quello che non dico ti taglia le gambe ma ti mette in difficoltà veramente che dire un contopiede assolutamente una doccia ghiacciata per i nostri Rockets vediamo la rete l'affondo con la rete da parte di Winder Gabriel sinceramente io ho visto dei tiri molto molto più difficili per Schwart che ha fatto veramente i miracoli devo essere sincero non era tutto sto gran tiro no il tiro non era un gran che ma era preciso e Schwart probabilmente ha perso il tempo nell'intervento veramente peccato per i nostri Rockets perché adesso si trovano sotto due reti a zero non sarà assolutamente facile veramente peccato perché sinceramente nel nel secondo tempo devo essere onesto hanno dimostrato veramente un gran ok tanto vediamo ancora un po' di traffico vicino alla Balaustra ancora Metler vediamo che scarica sulla Balaustra ancora per il compagno Landholt ancora vediamo un po' di traffico vicino alla Balaustra recupera il il disco appunto il numero Metler ancora vediamo il Crackhouse la fondo ma Landholt riesce a fare veramente un'ottima difesa qui veramente vediamo la chiusura da parte del numero 28 ancora vediamo effettivamente è il momento dei Lions Sì il Ticino sta cominciando a essere stanco e a commettere piccoli errori che potrebbero anche costare il terzo gol speriamo di no sperende no sinceramente perché sinceramente tanta fatica ancora vediamo un'ottima un ottimo controllo da parte dei Lions veramente Burger sul disco ancora spazza vediamo che recupera ancora veramente conclusione pericolosa doppia conclusione appunto per il numero 9 Bernie Fabian intanto vediamo un braccio alzato dell'arbitro sì una liberazione che purtroppo non consente al Ticino di cambiare i giocatori che però cerca di far rifiatare un po' tutta la squadra 14 minuti e 43 secondi al termine di questa partita la Biasca Raffaizen Biasca Arena Aia punteggio di 2-0 a favore del del GGK Lions di Zurigo veramente non l'avrei voluto dire però che dire fino ad ora la formazione di coach head coach Linger Michael effettivamente è stata molto cinica e che dire ha sfruttato bene intanto vediamo un altro fischio arbitrale sì un'ossuzione contro lo Zurigo ecco questa è un'altra occasione da sfruttare assolutamente per il Ticino per poter ritornare in gioco in partita vediamo appunto in panca cattivi il numero 22 Barry Fabian due minuti di power play a questo punto io penso che dobbiamo cercare assolutamente di sfruttare questo power play e poi tentare l'assalto finale sì anche se manca ancora 14 minuti bisogna subito fare il gol perché più il tempo passa più difficile diventa e più c'è il rischio che il gas stopper faccia altri gol vediamo un disco che crack house appunto vediamo che recupera dietro alla gabbia ancora scambio per Fontana ancora il top scorer che rientra in campo ancora vediamo scambio per crack house ancora vediamo Fontana ancora per il top scorer no vediamo che c'è una buona difesa da parte del dei lions e ancora un'altra conclusione veramente pericolosissima da parte del numero 44 Schlangenrauf veramente i nostri Rockets non riescono più a dimostrare quel bel hockey che hanno dimostrato nel secondo tempo sì purtroppo stanno perdendo un po' lo smalto dell'inizio ma come dicevo prima all'inizio è anche normale è una squadra che cambia continuamente quindi non hanno gli automatismi che hanno un grasshopper però io mancano 13 minuti 45 ci credo ancora nel gol del Ticino vabbè vada come vada comunque la cosa bella che ci siamo visti per ora fino ad ora ci siamo visti una buona partita di hockey abbiamo assaporato insomma il profumo dell'odore del ghiaccio e diciamo che un po' dalla lontana stiamo facendo a vivere anche agli amici a casa comunque delle emozioni e direi che questo momento è molto importante sì nel periodo in cui siamo spero che questo commento abbastanza entusiastico un po' alla buona diciamo sì un po' alla buona aiuti chi ha a casa a farsi anche quattro risate a pensare a non pensare al periodo ma per un paio d'ore a pensare all'hockey appunto abbiamo visto Aghi del ponte ancora Aghi del ponte bellissimo scambio slap shot da parte del numero 52 dei Rockets vediamo vedo Valoi che vediamo appunto un altro fischio arbitrale sì io ho visto un arbitro che annullava e un arbitro che diceva che era bastone alto purtroppo non si sono intesi tra di loro capita anche a loro di sbagliare i direttori di gara quindi si fa l'ingaggio in mezzo per errore arbitrale io adesso non so se questa è una cosa che io non riesco a vedere da così lontano ma voglio approfondire c'è un mio caro amico arbitro ticinese di calcio Roberto Ferrari pensa in un altro sport che è il futsal AMF lui ha introdotto i comunicatori e ti dico pensa che da quando ha introdotto lui i comunicatori che poi sono stati introdotti prima dalla federazione sbizzera di futbol sala e poi addirittura dalla federazione mondiale in un altro sport gli errori si sono quasi azzerati sarei proprio curioso di sapere se anche i direttori di gara di oggi hanno i comunicatori ma da quel che so in serie A sì in serie B non so se hanno il microfono perché hanno il primo principale ha il suo Lisman e il secondo principale ha l'altro Lisman e quindi cercano di tenere metà campo uno e metà campo l'altro però come detto il numero il signor il signor Eichmann probabilmente dalla sua posizione non ottimale ha visto un bastone alto l'ha fischiato cosa che il signor Castelli che era vicino giustamente ha annullato e la cosa ha portato a un po' di confusione all'ingaggio in mezzo però capita sì assolutamente però diciamo che questo sono proprio curioso perché effettivamente anche in questa categoria se non ci fossero i comunicatori sono assolutamente indispensabili tanto vediamo un nuovo ingaggio in zona difensiva per i Lions con il top scorer Kaya Petr e il numero 71 Suter Kai tanto vediamo ingaggio vinto dai dai appunto dai Rockets ancora vediamo la bellissima pattinata da parte del numero 14 Auser Timo che però vediamo ancora vediamo ancora spinto sulle balaustre ancora vediamo una buona pattinata da parte del top scorer conclusione di Auser Timo che però è abbondantemente fuori sì però è un segnale che il Ticino ci crede ancora e ci proverà fino alla fine vediamo quando mancano 11 minuti e 21 secondi al termine dell'incontro Aya punteggio di 2 a 0 a sfavore dei nostri Ticino Rockets ancora un nuovo ingaggio vinto sempre dai Rockets Fontana e intanto vediamo un altro fischio arbitrale sì ha fischiato anche se forse millimetrico per uno spettatore normale un fuorigioco il disco è uscito dalla linea blu e Fontana non è riuscito a tenerlo dentro sì effettivamente è stato proprio millimetrico perché io almeno io personalmente non me ne sono reso conto ma io l'ho visto semplicemente perché stavo guardando a quel punto e vabbè giustamente a volte come in una telecronaca due voci sono meglio di uno stavolta sei occhi sono meglio di due sì va bene dai tanto vediamo un nuovo ingaggio in zona difensiva per i Rockets ancora vediamo all'ingaggio il numero non riesco a vederli il numero 93 Shrub Robin vediamo appunto ingaggio vinto dai Lions però veramente il nostro ancora a fondo da parte dei Rockets che peccato che bella azione con la conclusione da parte di Luntz team e questo veramente ribattuta perché rischiavamo veramente di prendere un contropiede pazzesco sì e poi come si dice un gol non fatto è un gol subito abbiamo rischiato il gol ma siamo già dall'altra parte della difesa dei Lions che adesso riparte ma speriamo di recuperare prima il disco si sta rivelando un finale di terzo tempo a vincente vada come vada io personalmente questa sera mi sono divertito vediamo veramente che insomma la partita è tutt'altro che finita i nostri Rockets stanno rialzando la testa e speriamo veramente in questi ultimi dieci minuti possano rialzare la china e chissà mai chissà mai sì come dicevo prima due gol di scarto non sono niente nell'hoca in moderno se fai adesso l'uno hai possibilità di fare anche il pareggio tanto abbiamo visto ancora un affondo dei Lions ancora controllo del disco vediamo un bellissimo passaggio in lungolinea Casut respinta dell'estremo difensore Chouard ancora vediamo Kaya Petr che non riesce ad affondare ancora recupera veramente il disco Bucli Dominic ancora il controllo del disco R veramente che scontro tra i due giocatori insomma sto ritornando a vedere un ritmo veramente alto sì probabilmente Coach Landry ha deciso di alzare il ritmo come in questo caso c'è anche un'abilità contro il Gasopper e un'ulteriore possibilità per il Ticino di fare gol e Aia sto vedendo che è stato tolto il portiere sì è stato tolto appunto perché c'è un'abilità contro il Gasopper e si gioca in 6 contro 5 fino al fischio dell'arbitro ancora vediamo non riesce ad agganciare arriva appunto il fischio dell'arbitro sì il portiere controlla il disco e ecco l'arbitro Castelli annuncia un bastone alto e dovrà uscire un giocatore dell'Ozzurri e del Gasopper vedremo un attimo chi sarà questo giocatore intanto vediamo un attimo di un attimo appunto di momento di pausa vediamo che che va in panca cattivi il numero 19 Shiket Shiket Nelson sì ha fatto un bastone alto che in questo caso è stato chiamato giustissimo ed è un'ulteriore occasione per il TC di accorciare le distanze almeno però io direi che tutto sommato stasera però le occasioni non sono mancate per i Rockets no no anzi ti dico è la prima partita che vedo dal vivo ma non è una squadra da ultimo posto assolutamente no è una squadra che chiaramente come hai detto te è un cantiere aperto quindi diciamo che giustamente poi cambiando sempre giocatori ogni partita non è io penso che non è facile però a un certo punto io mi auguro che insomma possano mantenere la categoria sì quello spero anch'io e ti dico da allenatore anche se di line dei bambini ti dico una sfida facile non mi piace così penso come a Eric Landry se fosse stata la squadra più forte e che non gli dava problemi non so se avrebbe accettato il ruolo no beh indubbiamente un coach di una certa esperienza come coach Eric Landry direi che assolutamente ha preso una sfida che è assai tutt'altro che facile e chiaramente che dire a un certo punto far crescere questi giovani insomma diciamo che è una sfida non da poco intanto vediamo ancora il possesso da parte dei Rockets ancora un minuto di power play lo slap shot da parte del numero 91 intanto appunto coach Landry vediamo che chiama la propria squadra e vediamo un'altra rete da parte da parte dei che dire da parte dei Lions con il numero 9 Bernie Fabian addirittura abbiamo visto anche una stecca rotta da parte del portiere che insomma è un po' direi che è un po' furibondo per questa per questa comunque mancata difesa sì per questa mancata difesa e per aver preso un gol che è un rimpallo giustamente ha rotto il bastone sul palo io avrei fatto di peggio molto peggio poi prendere un gol quando sei in power play insomma io penso che ci sia qualcosa da lavorare sì ma da portiere ti dico che il prendere il gol già prendere il gol per un portiere ti fa girare ma prenderlo in quel modo ti fa ha rotto solo un bastone e immagino perché abbia solo due da poter usare questa partita perché se no sarebbero volati altri pezzi non oso assolutamente immaginare intanto vediamo appunto un altro affondo appunto veramente qui che dire l'estremo difensore avversario Meyer ha fatto veramente ha fatto gli straordinari perché veramente abbiamo visto un ottimo affondo da parte di Shrub Robin quando mancano sei minuti e 45 il passivo inizia a essere di tre reti a zero sì il passivo comincia a essere sorpresante la partita comincia ad andare su un binario purtroppo negativo per i Rockets purtroppo direi che insomma meno di sorprese io direi che i Lions possono tornare oltre Gottardo insomma con un po' di punti in sacca e assolutamente insomma essere anche tutto sommato soddisfatti di questa prestazione sì direi di sì anche se personalmente il risultato è veramente bugiardo perché Meyer ha parlato bene ma anche Schward ha parlato bene purtroppo dire in questo caso veramente complimenti per la conclusione dei Rockets veramente da parte del numero due di Enzischi Jan veramente qui anche da fare i complimenti all'estremo difensore dello Zurigo perché veramente ha preso un disco che non sarebbe stato assolutamente facile intanto vediamo un po' di agonismo ancora un'altra conclusione insomma veramente però in questo caso non è assolutamente facile no assolutamente però come hai detto tu giustamente Meyer sta tenendo in partita il Grasshopper il Rockets continua ad attaccare ma lui difende e vediamo un altro disco un altro fischio arbitrale una liberazione vietata fischiata vedremo adesso un nuovo in ingaggio in zona difensiva tra il nostro numero 93 Schrab e il numero 44 Schlagdauf Roman ricordiamo il capitano dei Lions vediamo che tutto pronto e ingaggio ancora ribattuta da parte dei Rockets ancora una respinta possesso da parte dei Rockets del Ponte non so vedo un po' vedo un po' che precisione da parte dei Rockets si stanno perdendo un po' la lucidità la lucidità e probabilmente anche un po' la fiducia in loro stessi però come si dice non si molla fino alla fine assolutamente intanto del Ponte ancora un controllo del disco ancora Burger un colpo al centro che non viene agganciato dal compagno numero 21 ancora vediamo un altro a fondo Mettler ancora vediamo disco al centro gioca per Butler no Burger scusate ancora un altro disco al centro incredibile occasione vediamo Butler no Burger scusate mi sto sbagliando veramente ancora un altro a fondo da parte dei Lions che effettivamente stanno controllando veramente in maniera egregia il disco insomma un momento un po' di difficoltà per i Rockets si un momento di difficoltà ma non so se hai notato Schwartz ha fatto una parata che poteva costare il 4-0 e probabilmente ha tirato fuori tutta la rabbia che ha in corpo per i tre gol subiti insomma speriamo che non spacchi anche un altro bastone no speriamo di no anche perché ti dico io purtroppo non posso spaccare i bastoni perché non ho pochi se no come hai detto prima ne avrei spaccati diversi negli anni che gioco tanto 4 minuti e 20 secondi al termine di questa gara ancora nuovo ingaggio vinto dai Lions dal numero 33 3 Winder Gabriele però possesso ancora è qui scusa veramente da portiere devi fare i complimenti al tuo collega perché ha fatto una parata veramente di riflesso incredibile sì 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 assolutamente io elogio sempre tutti i portieri questa sera come ho detto elogio sia Meyer che Schwartz chiaramente Meyer ha zero gol subiti e quindi è in vantaggio ma Schwartz non è non è assolutamente al di sotto e intanto vediamo un fischio arbitrale un bastone alto uno sgambetto da parte del Grassoff ma c'era anche un bastone alto vabbè chiaramente vediamo in panca cattivi il numero 71 Sutter Kai per due minuti di penalità quando mancano tre minuti e 46 al termine di questa partita vediamo un time out sì direi che è il momento buono a tre minuti e 25 dal termine dobbiamo tentare il Ticeo deve tentare almeno il gol della bandiera e di se fa come Luca Ceredo dell'Ambri io tenerei fuori il portiere adesso per tentare di fare il gol ma sai che stavo pensando proprio la medesima cosa sì perché chi non risica non rosica il quarto questo gol lo prendo lo prendo a portavuota ma il gol dell'uno lo tento e infatti penso che coach Landry ci ha ci ha letto nel pensiero sì è anche una tattica molto usata da tanti allenatori non tutti perché non è così scontata come a tre minuti e 46 non è scontato però se lo fai sotto il minuto e mezzo è tardi ancora vediamo il il possesso da parte dei Rockets ancora Kaya Petr sul disco conclusione ancora vediamo una rispinta mette a terra sempre il top scorer ancora controllo del disco sempre da parte dei Rockets Crackhouse ancora scarica per Hasler ancora vediamo un po' di traffico vicino alla balaustra del ponte Kaya è qui veramente l'estremo difensore avversario veramente io gli do la palma veramente tra i migliori della gara perché ha fatto veramente una prestazione io direi eccellente sì niente da dire Maier sta tenendo la partita sta giocando per il suo shootout e non è scontata come cosa e vediamo ancora il controllo del disco Crackhouse che Kaya Petr a fondo del top scorer ancora una direi un'ottima difesa scontro la balaustra da parte del nostro numero sei e purtroppo arriva la rete da parte dei Lions e qui penso che la partita sia terminata sì però come si dice termina il terzo tempo di una partita per ricominciarlo nella prossima quindi io immagino che l'Andrea comunque ha comunque la coscienza pulita ci ha provato e gli ultimi due minuti e ventiquattro bisogna finire la partita in modo onorevole così da anche rispettare l'avversario che è sceso in Ticino assolutamente però io comunque io infatti chiaramente poi nel post partita vorrò confrontarmi perché sinceramente io devo dirlo io per metà partita ho visto comunque un ottimo Ticino Rockets un'ottima chiaramente un'ottima un'ottima squadra in campo che non mi sembra che abbia meritato tutto questo divario sinceramente penso che intanto ha spaccato un nostro giocatore ha spaccato il bastone il nostro numero 58 Gubei Enzo però dicevo secondo me quattro reti non è il vero è un risultato bugiardo sì è un risultato molto bugiardo ho visto anche che sabato ha vinto contro il Langenthal anche se era un'altra partita comunque stasera Ticino nonostante il 4-0 penso che può tra virgolette tornare a casa con la consapevolezza di comunque lavorare verso di stare lavorando dal lato giusto nel senso sta lavorando bene anche se sono 4 gol sta lavorando stanno lavorando e i risultati arriveranno presto o tardi arriveranno ce lo auguriamo assolutamente perché insomma ci dispiacerebbe insomma che io penso che la giusta categoria per questa squadra è la Swiss Hockey League e questo è poco ma sicuro però io penso che i nostri giovani ticinesi abbiano bisogno per crescere di giocare in questa categoria e giocare contro avversari anche io direi d'esperienza come sono stati il Langenthal come è stato anche stasera i Lions di Zurigo sì poi non dimentichiamoci che Roma Gillagenauf o Korsing Karsut sono comunque giocatori che hanno giocato in serie A non sono gli ultimi arrivati in serie B è anche da dire che la serie B non è un pensionario per giocatori che non sono più in A ma è anzi un mix tra vecchietti terribili e giovani che vogliono andare su comunque parliamo del secondo per chi non lo sapesse ma se fosse messo in ascolto adesso parliamo comunque del secondo campionato professionistico svizzero direi che anzi ho visto anche squadre ma anche secondo me il Langenthal stesso che abbiamo visto sabato io ho avuto ho avuto modo di vederlo anche in altre partite devo essere onesto è una squadra che merita potrebbe fare la serie A senza grossi problemi sì Langenthal purtroppo a Berna ci sono già tre squadre probabilmente una quarta squadra sarebbe un po' un problema a livello anche di giocatori di pubblico anche se in questo momento il pubblico non è neanche un problema no non direi proprio che sia un problema il pubblico e anzi io ti dico la verità da appassionato mi auguro sinceramente che il pubblico torni a essere un problema e queste arene come le vediamo normalmente siano magari troppo piccole sì io spero che anche tra le regolette lo spettatore rompi balle che urla sempre all'arbitro anche se se fa giusto tornino allo stadio sì assolutamente perché diciamo che vedere allora chiaramente è uno in campo i giocatori sono veramente dei gran professionisti e indipendentemente con tutti bisogna fargli i complimenti perché sono veramente professionali e molto seri e qui bisogna fargli i complimenti perché comunque nonostante facciano un lavoro che insomma anch'io vorrei fare il giocatore di hockey però comunque è un lavoro che non è sempre non è sempre facile e che richiede veramente tanti sacrifici e insomma diciamo che ci auguriamo assolutamente che queste situazioni duri il meno possibile perché vedere queste bellissime arene perché comunque vuote insomma è un po' è un po' triste sì è molto triste così come è stato il primo derby a febbraio a porte vuote così come l'ultimo come gli ultimi sia da Ambrica a Lugano manca quella parte emotiva che fa parte anche quella del gioco e vediamo se è arrivata la quinta viene convalidata la quinta rete vediamo se viene convalidata sinceramente perché tanto non abbiamo non abbiamo commentato un'ottima azione veramente una bellissima triangolazione non lo so se è stata convalidata non lo so neanch'io anche se il regolamento dice che se parte prima della sirena il gol è valido vediamo cosa decide l'arbitro principale vediamo un pochino intanto vediamo che i giocatori si viene convalidata appunto intanto vediamo i giocatori che si schierano per il saluto finale vediamo un po' chi sarà stato eletto come miglior giocatore della partita per entrambi le squadre veramente una sconfitta veramente bruciante per i nostri Rockets 5 a 0 insomma sinceramente io a metà partita avevo un po' sognato si anch'io 5 a 0 secondo me è troppo pesante come risultato però purtroppo i numeri sono numeri non è un gol un gol non è bello brutto se va sul tabellone è un gol e purtroppo sminuisce anche il lavoro fatto da Schwartz vediamo un po' chi è stato eletto come miglior giocatore delle delle due squad vediamo che è stato eletto per lo Zurico vediamo infatti non si sente benissimo l'audio della Biasca Raffaele Zembiasca il portiere questo si è stato eletto il portiere appunto Mayer Jeffrey beh che dire effettivamente se la merita tutta c'è poco c'è poco da commentare si c'è poco da dire ha fatto uno shootout ha tenuto assolutamente partite suoi parlando anche un rigore e vediamo che invece per i i Rockets viene eletto il numero 22 del ponte Karim bene amici telespettatori di Legnano Web TV e di Ok Radio Ticino è tutto da parte di Axel Paderni e da parte di Simone Rosselli grazie di essere stati con noi e ci vediamo nel proseguimento dei programmi di Legnano Web TV alla prossima bene amici telespettatori di Legnano Web TV siamo al termine della partita che ha visto purtroppo una brutta sconfitta dei Rockets per 5 a 0 siamo qua con Neuswander Joel io ti direi una partita per me giocata veramente bene per tre quarti ho visto veramente la stessa grinta che ho visto sabato contro Lagenthal che cosa è successo poi ma penso che abbiamo dominato la partita credo che è mancata tanta freddezza davanti alla porta avevamo tantissime occasioni non le abbiamo messe e loro invece le hanno fatte contare quelle che hanno messo dentro secondo te adesso cosa c'è da lavorare per arrivare alla sfida di sabato contro Klotten ma penso che domani abbiamo un giorno libero pensiamo un po' a cosa è successo stasera e riprendiamo a lavorare da giovedì e saremo pronti per la prossima partita concludendo le nostre interviste siamo qua con Kaslatter Hannes beh che dire sinceramente a me personalmente per metà della partita sei piaciuto tanto come ho detto al tuo compagno una partita giocata molto bene per tre quarti poi un breakout sono d'accordo con te secondo me abbiamo dominato la maggior parte della partita però è ovvio se non segniamo un gol non puoi vincere la partita e ormai a questi livelli se non segni prima o poi se non segni sei buone occasioni dopo le ricevi e hai ragione te che hai detto al terzo tempo non so cos'è successo adesso domande riguarderemo i video però possiamo dire che siamo contenti della prestazione però naturalmente è frustrante che abbiamo perso la partita così beh io sinceramente non oso immaginare che cosa non vi ha detto il coach però sinceramente sabato vi aspetta la prima della testa Kloten sinceramente io mi auguro di vedere uno spirito come quello contro l'Agental che sinceramente reputo che avete dimostrato il vostro vero valore che è quello che non è da ultima in classifica no sono d'accordo con te e sappiamo che contro le squadre forti abbiamo sempre fatto delle belle prestazioni ricordiamo l'ultima partita contro Kloten in trasferta abbiamo vinto 2 a 0 quindi sicuramente questo ci darà una carica in più però allo stesso tempo mi viene da dire che proprio perché avete vinto 2 a 0 Kloten è testa della serie è una squadra che vuole la promozione e non sarà assolutamente facile sabato no naturalmente no però noi come ogni partita andiamo dentro con la massima grinta andiamo a tutto e cerchiamo anche lì di tirare fuori qualche punto bene amici telespettatori di Legnano Web TV vi ringraziamo di essere stati con noi vi ringraziamo la società Ticino Rockets per essere stata così disponibile averci aperto le proprie porte e ci vediamo nel proseguo delle premissioni di Legnano Web TV alla prossima alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti.